Al Centro Culturale Polivalente Michele Abbate, lunedì pomeriggio sono state premiate tutte le benemerenze sportive nissene nell'ambito del Calat Winner, Caltanissetta che vince nello sport, Kermes organizzata dal CONI e dall'assessorata allo sport del comune di Caltanissetta. Agli sportivi e alle società premiate sono state consegnate una stella di bronzo e una medaglia di bronzo al merito sportivo. Tra le società premiate ci sono state le pallavoliste dell'Alba Verde, i cestisti dell'Invicta e i pattinatori dell'Eclettica.